Qual è la cosa che le dà più fastidio di quello che stiamo scoprendo in queste ore dalle indagini e dagli accertamenti sulla dinamica dell'incidente? Capire purtroppo che lo Stato è stato completamente assente e ha guardato i suoi giovani morire, gli uomini lasciarsi cadere giù ad un ponte senza fare nulla, senza prevenire nulla. Per questo io sono qui solo per chiedere giustizia, per capire la verità e attraverso il mio avvocato Antonio Cirillo stiamo facendo tutte le mosse possibili attraverso i periti che nomineremo per sapere perché mio figlio è morto a 29 anni, perché mio figlio è stato ucciso a 29 anni. Ma questa volta non sarà facile insabbiare tutto come nelle altre stragi. Questa volta tutta la cittadinanza di Toro del Greco, centomila persone, si possono guardare i like dei giovani, le lettere che vengono scritte da tutta Italia. Questa volta il popolo italiano sarà vicino a tutte le vittime per poter avere una risposta, perché tutti gli italiani in quella strage ci poteva essere il figlio di chiunque e noi lotteremo per tutta la mia vita finché non si avrà giustizia e verità. Questa volta il patto con gli italiani lo Stato lo ha perso. Questo governo dovrà dare delle risposte e mi auguro che lo faccia al più presto. Signor Roberto, lei è arrivato a definirlo un omicidio di Stato. In parte lo ha detto, ma dire omicidio vuol dire affermare che c'è una responsabilità diretta delle istituzioni. E' certa questa cosa. Mio figlio non è morto, è stato ucciso. Mio figlio non correva a 200 e si è schiantato in un muro. Mio figlio era fermo su un ponte. La sera prima c'erano stati centinaia di mezzi a lavoro su quel ponte. Non si capiva in una bufera d'acqua il perché, ma sicuramente la società autostrade sapeva che quel ponte era pericoloso. Già da sei anni Milena Gabanelli aveva dichiarato in un reportage televisivo tutte le problematiche ingegneristiche di quel ponte e tutte le defaianze. Ma poi non sta a me dirlo, nel senso che possiamo leggere dappertutto quello che dicono ingegneri di alto nome. Il ponte era pericoloso e i ragazzi sono morti. Quattro ragazzi che andavano in ferie, 43 persone innocenti. Lo Stato chi è? Forse lo Stato siamo noi. Io capisco benissimo, figuriamoci, come si fa a non capire il lutto di un genitore che si è visto così scomparire in un incidente tragico come quello di un figlio e gli amici del figlio. Però lo Stato siamo alla fine tutti quanti noi. Mi verrebbe da fare una domanda che può sembrare irriguardosa, ma forse non lo è. Negli anni passati per chi ha votato il dottor Battiloro? Ha votato per delle forze probabilmente che sono state al governo di questo Stato. Però questo non c'entra, professor Terralogio. Che cosa potrebbe essere votato qualunque cosa, però non è in materia di discussione stasera. No, c'entra nel senso che lo Stato è rappresentato dal governo. È il governo che determina cosa è lo Stato, cosa fa lo Stato, se lo Stato fa o no dei controlli. E il governo in un paese democratico viene eletto dai cittadini. Non ci può essere questa dissociazione dallo Stato come se fosse qualcosa di diverso e di potenzialmente sempre ostile. Questa è una cosa che naturalmente si spiega benissimo con l'emozione più che giustificata, ripeto. Però si deve fare un discorso che prescinda dall'immediatezza dei sentimenti. A me viene da fare questo discorso che poi si ripropone per tantissime tragedie italiane in cui appunto si manifesta immediatamente una forma di dissociazione in particolare da parte delle vittime, ma in genere dell'opinione pubblica contro lo Stato. Sì, lo Stato è colpevole. Io penso che lo Stato sia colpevole in questa circostanza. Ma è uno Stato che si è reso colpevole perché chi lo dirigeva, che era eletto da noi, ha fatto degli errori. Ma quelli che hanno commesso degli errori, erano eletti da noi. Ritorniamo a quello che stai dicendo, un galli alloggio con cui un po', forse anche per questa cosa che ci ha colpito enormemente, incrociavo degli strali polemici perché ho come l'impressione che di fronte a certe cose bisogna lasciare le volontà individuali, le scelte, le confessioni, il voto da un'altra parte. Però il suo ragionamento ovviamente può continuare. Il problema non è il voto. Il problema è il voto nella misura in cui il voto indica e sottolinea la partecipazione di ogni cittadino di uno Stato democratico allo Stato. In questo senso il voto è il simbolo del fatto che lo Stato siamo noi. E però uno che si sente tradito e dice sostengo quello che ci ha detto e mi sento tradito perché mio figlio non è stato difeso da quello Stato, forse noi lo ragioneremo in un altro modo, ma lui ha tutto il diritto di dire da questo Stato mi sento tradito. Ma noi che cosa stiamo facendo qui? Una discussione sui significati di quello che accade oppure stiamo dando le nostre solidarietà al dottor Battiloro. Se stiamo dando la nostra solidarietà io gliela do interamente, tutta. Ma mi sembra che forse se sentiamo appunto questo tipo di argomentazioni abbiamo anche il diritto, dovere di interloquire e di dire la nostra. Perché se si dice la colpa è dello Stato, si dice una cosa gravissima, di un enorme significato politico, antropologico, tutto quello che volete, sul quale si possono avere delle opinioni.